L'Orchestra Sinfonica Rossini presenta i nuovi concerti Xanitalia. Non perdetevi l'occasione di ascoltare grandi voci della musica italiana accompagnate in Piazza del Popolo dalle magiche note dei musicisti dell'orchestra. Lunedì 15 luglio alle ore 21 e 15 Chiara Gagliazzo presenta la grande musica italiana accompagnata dal maestro Roberto Molinelli. L'ingresso è libero.